Tutt'altro che confortanti i risultati del primo semestre 2015 della Banca Popolare di Vicenza che scivolano ancora più in basso rispetto allo scorso anno fino a registrare una perdita di un miliardo di euro. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la semestrale e insieme ha dato il via a un aumento di capitale di un miliardo e mezzo da sottoporre nelle prossime settimane all'Assemblea dei Soci straordinaria e ancora prima agli organismi di vigilanza e di controllo. A determinare il rosso sono state in particolare le rettifiche sui crediti che ammontano a 703 milioni e gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri, circa 380 milioni, chiesti dalla Banca Centrale Europea che non ha ancora formalizzato gli esiti dell'ispezione. La trasformazione della Popolare di Vicenza, come di tutte le banche popolari, in società per azioni con all'orizzonte lo sbarco in borsa ha amplificato le difficoltà generali. La BCE ha passato in rassegna i conti e aperto la strada a una serie di approfondimenti del management con il contributo di consulenti legali, finanziari, contabili e fiscali. In particolare il lavoro degli ispettori della BCE ha fatto emergere la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni della banca da parte della clientela facendo ricorso a finanziamenti erogati dalla stessa. L'importo complessivo di questo capitolo si attesta a poco sotto 975 milioni, attesa per gli azionisti che una volta deliberato l'aumento di capitale avranno contezza del valore delle azioni. Argomento questo che a Prato ha generato un'onda di malumore per la decisione di ridurre il valore delle azioni da 62 a 48 euro, una decisione che ha spinto una ventina di azionisti a fare causa contro la banca. Tornando alla semestrale è buono invece l'andamento della gestione ordinaria. A settembre sarà approvato il piano industriale 2015-2020. Le linee guida hanno già passato l'esame del consiglio d'amministrazione e sostanzialmente tracciano la strada per la riconferma della Popolare di Vicenza come banca del territorio al fianco di imprese e famiglie. Un piano industriale che riserva spazio anche a qualche sacrificio in termini di filiali. La mappa delle chiusure non è ancora stata ufficializzata a livello nazionale, ma si sa che Prato perderà almeno quattro sportelli, Casale, San Paolo, Zarini e la Briglia a Vaiano.